Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Quest'oggi in primo piano l'argomento dell'accoglienza dei migranti nella nostra regione con un'interrogazione in merito ai minori non accompagnati che ha visto la risposta nell'aula di Palazzo del Pegaso da parte dell'assessora all'integrazione della regione Serena Spinelli. Secondo il dato consolidato al 31 dicembre 2022 in Toscana erano presenti 1.172 minori stranieri non accompagnati. L'altro flusso di dati che viene dai comuni parlava al 31 agosto scorso di 1.009 minori. La discrepanza è legata a due modalità diverse di rilevazione ma il dato è sovrapponibile. Lo ha detto l'assessore regionale al sociale Serena Spinelli rispondendo nell'aula del Consiglio regionale a un'interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi della Lega che chiedeva alla giunta regionale di rendere conto sul tema. I minori non accompagnati in Toscana per il 90% sono di sesso maschile e oltre il 70% dichiarano un'età che va tra i 16 e i 17 anni un'età chiaramente che molto spesso non è dimostrata da documenti e questo l'ha detto anche il ministro Piantedosi che c'è una crescita di numero di minori non accompagnati e questo chiaramente crea una problematica importante perché poi dopo questi ragazzi, quindi non si parla di bambini quando compiono il presunto diciottesimo anno di età spariscono o comunque non sono più seguiti e accompagnati e non si sa che cosa gli si fa fare sul nostro territorio regionale. Questo è stato il punto fondamentale della interrogazione che ho presentato all'assessore la quale su questi aspetti non ha dato risposte e noi continueremo a vigilare sulla tutela dei minori ma che chiaramente deve essere anche misurata nei numeri perché ci danno dei segnali che potrebbero essere anche importanti dal punto di vista di quello che deve essere l'accompagnamento di un minore dal punto di vista dell'istruzione dal punto di vista anche, perché no, di integrazione in un mondo del lavoro nel momento in cui compiono i 18 anni. Parliamo anche di sanità. Il Consiglio regionale ha infatti approvato a maggioranza una mozione che chiede al Governo di destinare maggiori risorse per le case di comunità. Attivarsi presso il Governo avanzando la questione preliminarmente nella conferenza delle Regioni affinché sia data quanto prima conferma delle risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi contenuti nella PNRR relativi alle case di comunità e più in generale allo sviluppo dell'assistenza territoriale. È quanto chiede la mozione del PD votata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale con i voti favorevoli di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle e quelli contrari di Lega e Fratelli d'Italia. Vogliamo che venga fuori quale sia davvero la posizione del Governo sul tema della sanità territoriale. Il Governo precedente aveva un modello chiaro che è quello del DM 77 che la Toscana ha poi declinato con la delibera di giunta e che di fatto riprendeva il modello toscano delle case della salute quindi con case di comunità AB, SPOC, ospedali di comunità, COT cioè tutta un'organizzazione territoriale molto precisa. Ora di questo se ne parla molto meno a livello nazionale il sottosegretario parla di modelli in cui non ci sarebbero le case di comunità ma le farmacie è come se le farmacie potessero sostituire il ruolo di organizzazione di tutta la sanità territoriale tra l'altro in Toscana dove le farmacie da 20 anni svolgono tutta una serie di funzioni ulteriori di CUP, di alcuni elementi di diagnostica e ovviamente sono una parte centrale ma sono una parte che è insieme alle case della salute ora case di comunità quindi vogliamo sapere qual è il modello del Governo. Le case di comunità per come erano state pensate dal Governo precedente erano sbagliate in partenza soprattutto per quanto riguarda le aree interne il piano del Governo Draghi-Speranza prevedeva una case di comunità ogni 15.000 abitanti il che significa in aree montane nella Garfagnana sulla Miata sulla montagna pistoiese fare una case di comunità ogni chilometri 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 quadrati tenete presente il Comune di Abitone Cutigliano per fare un esempio sono 88 chilometri quadrati meno di 2.000 abitanti quindi pensare a una casa di comunità ogni 15.000 abitanti sulle aree interne non significa dare risposte ai cittadini questo Governo sta riformulando quel piano prevede di utilizzare il concetto di farmacie sociali come succede in tutta Europa dove l'embrione primo che garantisce una prestazione sanitaria è appunto la farmacia che è la ramificazione più profonda che c'è sul nostro territorio regionale delle strutture sanitarie sempre in tema di sanità il Consiglio regionale ha approvato il bilancio dell'Agenzia regionale di sanità ma non sono mancati appunti da parte delle opposizioni L'Agenzia regionale di sanità dovrà usare parte del suo utile 2022 per effettuare una ricerca sull'uso della sanità privata non convenzionata da parte dei cittadini toscani lo ha detto il Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni in occasione del Via Libera al bilancio di esercizio 2022 dell'Ars da parte del Consiglio regionale a maggioranza l'Ars sta dimostrando di essere una società in equilibrio all'Ars va chiesto sempre qualcosa di più lo Stato della salute toscana non è in salute questo è un dato di fatto oggettivo serve migliorare la risposta dei servizi sanitari della Toscana su questo noi stiamo lavorando per incidere penso sulla possibilità di utilizzare anche del personale che ha dei titoli riconosciuti a livello europeo ma che possa lavorare perché oggi a livello di sanità convenzionata o privata c'è difficoltà a trovare il personale c'è una difficoltà del sistema pubblico a dare risposte puntuali in tempi certi e quindi bisogna migliorare c'è una difficoltà economica a far quadrare i conti le questioni sono aperte quindi credo che l'Ars possa essere di supporto al decisore politico per assumere delle scelte di responsabilità che credo nelle prossime settimane vadano assunte il bilancio il bilancio di Ars è un bilancio ineccepibile anzi forse troppo perché avanzano 70 mila euro quindi noi ovviamente quando c'è una società che funziona dovrebbe consumarli tutti e probabilmente chiederne dei nuovi invece il bilancio da 4 milioni è passato a 3 milioni e 500 3 milioni e 600 quindi è evidente che non viene utilizzata nella potenzialità delle sue competenze credo che debba essere rivista un pochino la funzione di Ars e questo compete al Consiglio regionale come ho detto in aula se nel 2025 vinceremo noi forse cambierà anche questo il parere è un parere negativo ma è un parere negativo perché noi dobbiamo interrogarci su quello che dovrà essere il futuro dell'Agenzia regionale di Sanità oggi noi sappiamo troppo poco di quello che viene fatto le agenzie regionali svolgono un'attività preziosa di supporto anche per le attività della Giunta e anche indirettamente del Consiglio oggi però sul fronte sanitario dobbiamo diciamo pretendere di più noi siamo in una fase in cui molto spesso si legano le risorse al sistema sanitario a richieste che non hanno però come adeguato presupposto la programmazione cioè un'analisi preliminare di quelli che sono gli effettivi bisogni del sistema sanitario regionale che molto spesso appunto si rischiano di ridursi a semplici richieste di come dire allungare più soldi e più risorse da parte del Governo nazionale senza però legare ripeto programmazione ed efficienza e a proposito di bilanci approvato anche quello di un'altra agenzia regionale fondazione sistema toscana pure in questo caso a maggioranza approvata a maggioranza dall'aula del consiglio regionale la proposta di deliberazione del bilancio di esercizio 2022 di fondazione sistema toscana con 18 voti favorevoli dpd e italia viva 11 voti contrari di lega fratelli d'italia e movimento 5 stelle ad illustrarlo in aula la presidente della commissione cultura cristina giacchi è un bilancio che non ha rilievi particolari dai revisori ha avuto alcune raccomandazioni ma dagli uffici del settore programmazione sono osservazioni e raccomandazioni in parte di maniera che invitano a rispettare il parametro dell'assunzione di nuove risorse del personale ma quest'anno la fondazione forse per la prima volta addirittura non ha sforato il limite di autorizzazione che la giunta gli aveva concesso con riguardo alle risorse umane e non lo ha fatto benché il valore della produzione sia aumentato del 2% quindi un aumento contenuto dei costi inferiore al valore della produzione tant'è vero che il bilancio è inutile quindi abbiamo approvato a maggioranza le opposizioni rilevano al solito una sovrapposizione con i compiti di sviluppo toscana ma è bene ricordare che è solo una parte delle cose che Fondazione Sistema Toscana fa ad andare più che in sovrapposizione in convergenza in sinergia con l'operato di sviluppo toscana in realtà Fondazione Sistema Toscana ha un'operatività ad amplissimo raggio su tutti i settori della cultura della diffusione soprattutto la film commission tutto il lavoro sul digitale con l'internet fest e solo in parte appunto di promozione di valorizzazione dell'identità toscana competenza che va diciamo incontro alle competenze di promozione del marchio toscana più tipiche di sviluppo toscana dal punto di vista tecnico e del bilancio naturalmente tutto irregola nei confronti di quella che è l'attività e le spese e il finanziamento di questo soggetto pubblico che da anni lavora per lo sviluppo la promozione del turismo ma di cui ancora oggi non ci vengono dati con esattezza quelli che sono i parametri gli indicatori che ci dicono se veramente i soldi investiti all'interno di questo contenitore importante della regione sono soldi che raggiungono l'obiettivo la domanda famosa se non ci fosse questo ente della regione toscana il turismo in toscana sarebbe il medesimo sì o no si svilupperebbe nel medesimo modo o no non ci sono indicatori che ci permettano di rispondere a questa domanda e ci dispiace perché l'impegno degli operatori di tutti i colori che lavorano è grande il turismo è un metacomparto profondamente intriso di peculiarità che sono della regione toscana ed è importante che il turismo sia portato avanti bene nel rispetto del territorio questo ente può aiutarci a farlo ma noi non abbiamo neanche misuratori per capire se possiamo aiutarlo a fare di meglio o meno chiudiamo con una premiazione in Palazzo del Pegaso con protagonista Simone Velasco il campione italiano di ciclismo che ha ricevuto le ali del Pegaso cresciuto sportivamente tra le strade dell'isola d'Elba il campione italiano di ciclismo Simone Velasco è stato premiato con le ali del Pegaso dal Consiglio regionale l'atleta 27enne nato a Bologna corre per la Stana con cui ha vinto a Comano Terme la prova in linea che lo ha portato a vestire la maglia tricolore devo ringraziare tutti per questo bellissimo riconoscimento per me è un onore quest'anno è stata un'annata quasi magica e abbiamo raggiunto grandi risultati tra cui la maglia tricolore che è un motivo di di grande orgoglio per noi e dai siamo siamo fiduciosi di poter continuare su questa strada cosa significa per te indossare e portare sulla strada la maglia tricolore dei campioni d'Italia indossare la maglia tricolore lungo tutte le strade del mondo è sempre un brivido che corre lungo la schiena è la responsabilità di una nazione e quindi è appunto una spinta in più a dare sempre il massimo e a far vedere quanto quanto vale la nostra terra e insomma è noi il sogno sarebbe prendere parte al Tour de France quest'anno parte proprio qua da Firenze e sarebbe una grande è una grande cosa riuscire a partire ora abbiamo anche una maglia tricolore sulle spalle quindi anche il giro è molto importante quindi cercheremo di distillare un programma adeguato e poi magari proveremo a fare entrambi mi piacerebbe fare entrambi ora con la squadra ci troviamo nel fine settimana per buttare giù un piano e comunque sono fiducioso di poter essere presente ad entrambi questi dunque erano tutti i principali argomenti della puntata odierna della voce del consiglio l'appuntamento torna ovviamente la prossima settimana sempre su RTV 38 grazie per l'attenzione e buon proseguimento arrivederci a presto